Osmani Guantoreno, una partita non giocata praticamente dalla Lube, io ho definito questa partita sconcertante per la maniera in cui praticamente non siete riusciti proprio a fare questa gara. Voi la potete definire come volete, alla fine Trento ha vinto, noi sinceramente abbiamo sempre partito di bene, poi non so cosa è successo perché adesso veramente non ci ho pensato a niente. Abbiamo perso, il fatto è che abbiamo perso, 3-0, Trento ha meritato, noi siamo in un buco, non sappiamo come uccirne fuori, per cui non c'è niente da dire e giustificare niente. Eravate 8-3 all'inizio, poi è bastato un piccolo break di Trento e avete smesso di giocare? L'ho detto prima, sì, eravamo 8-3 e dopo sinceramente non so, non so cosa è successo, se è un aspetto mentale, prendiamo fiducia dopo un punto, due, non lo so. Dobbiamo accettare che giochiamo con una grandissima squadra, che non mola, se loro fanno qualcosa di buono dobbiamo riconoscerlo e continuare, ripartire. Ma ci blocchiamo, ognuno ci guardiamo in fascia, non capiamo cosa succede, come se non avessimo mai giocato pallavolo. Per me è comunque la prima volta che mi capita e dobbiamo uscire le squadre tutti insieme, perché alla fine vinciamo tutti insieme e perdiamo tutti insieme. Per cui è così, niente da dire, da giustificare, complimenti a Trento, domani comunque c'è una medaglia da giocare. Fino al 23 marzo abbiamo visto un'altra Lube, poi cosa è successo? Mi hai fatto la domanda tre volte, ti ho detto che non lo so, non so cosa è successo. Noi ci proviamo, giochiamo, però non viene niente fuori, per cui non saprei dirti.